Riposo assoluto per Fedez, dimesso oggi dal Policlinico di Milano dove era ricoverato per un'emorragia in Riposo assoluto per Fedez, dimesso oggi dal Policlinico di Milano dove era ricoverato per un'emorragia in Il rapper è a casa e ha tranquillizzato i fan sulle sue condizioni di salute. Faccio alcune precisazioni sul mio stato di salute, poiché sto leggendo fantasiose ricostruzioni online Il rapper è a casa e sono stato ricoverato per l'ennesima emorragia interna, ha spiegato, la do Fedez aveva anticipato già stamattina, quando era ancora in ospedale, che i medici avrebbero dovuto valutare la sua situazione e decidere se poteva tornare subito al lavoro Stasera l'annuncio, sempre tra le storie Instagram, è con grande rammarico che mi trovo costretto ad annullare le tre date previste per ve Ho bisogno di riposo e di recuperate un po' le forze I DJ set previsti nei prossimi giorni, quindi, Salto Fedez ci teneva molto a questi live, per i quali si stava preparando proprio prima Bisognerà aspettare Nel frattempo accanto a lui ci sono i figli, Leone e Vittoria, i suoi genitori e i collaboratori più stretti